Ciao a tutti ragazzi, io sono l'unico e solo e oggi siamo finalmente tornati su Minecraft. Era troppo tempo che volevo rigiocarle, non è vero, però... Non volevo farvelo credere. Ragazzi, l'avete riconosciuto, è vero? Le Sky Wars. Quelle che ho odiato a morte. Quelle su cui ci ho lanciato le peggiori bestemmie. L'odio incredibile. Adesso mi deve spiegare perché mi metto in ferro e poi ne metto in diamante. Secondo te prendo quello in ferro. E penso che continuerò a tirarci dei peggiori bestemmi perché ho deciso che riprenderò la serie di Minecraft. Perché non... Cioè, raga, mi manca troppo Minecraft. Diciamocelo. Cioè, ero molto bravo su Minecraft, ma anche se non fossi stato bravo, però mi ha sempre divertito un botto. Quindi direi che Minecraft è da continuare, non da lasciare di avarcire. Clash Royale, ad esempio, già stufa un po' di più. Però anche Clash Royale mi piace, eh. Non metto in dubbio che Clash Royale sia un bel gioco, attenzione. Allora, mettiamo i gambali. Pitano, legno, vai. Mettiamo i gambali. Dov'è quello lì? Non è andato al centro, quindi è ancora qua. Vabbè. Ma cos'è questo? Un hacker? Raga, era palesemente un hacker quello. Cioè, camminava? No, raga, ma quello era un hacker. Capito perché mi incazzavo ogni volta. Dov'è il mio messaggio? Vabbè. Aspetto che... Che inizi la partita. Minchia, raga. Capito perché mi incazzavo ogni volta? Perché non si può giocare che ci sono sempre gli hacker che in qualche modo te non filano super il culo. Cioè, è una cosa impossibile giocare con gli hacker, dai. Ma poi non ho mai capito, cioè, vabbè, io raga, non ho mai capito il senso di hackerare, nel senso. Cioè, qua non hai nessun progresso da fare. Quindi non hai neanche da dire, lo faccio per vincere i progressi. Perché se lo facessi per vincere i progressi, già lo portare a un po' più capire. Certo, mi scazzerebbe comunque, però, sarebbe molto più comprensibile. Invece non ci sono progressi fattibili. Io non capisco proprio quale sia il senso di hackerare. Cioè, poi, alla fine non è una vittoria meritata. Perché tu non ti meriti hackerando. Ti meriti giocando bene. Cioè, se tu vuoi imitare i pro player, i pro player li puoi imitare soltanto giocando come loro. E quindi giocando bene. I pro player non ha che hanno... Poi, magari, invece, tutti i pro player usano delle hack particolari che però non si vedono nei video. Io non lo so, però. Io vado, io vado sulla buona fede che quelli non ha che non... Spero, ovviamente, che non ha che non... Cioè, se non è che cassa di esempio danno. Quindi niente. Partiamo subito e andiamo su un'altra isoletta. Non c'è nessuno di vero? No. Sono... C'è uno al centro. Ma quello potrebbe dare un po' più problemi. Chi ha? Chi mi ha buttato giù? Quello al centro! Baron. Non ci voglio credere. Oh, ma... Una volta che decido di muovemi... Fanculo, tutti con l'arco, tutti hacker. E che cazzo sta diventando, Minecraft raga? Ok, iniziamo subito col prendere le cose che ci servono. La mia compagna mi sa che sta morendo. Quindi non salutiamola. O poi si è sopravvissuta, non so. Vediamo. Che cazzo fa? Oh! Che cazzo fai? Vuoi raga, pazza? Ah, ma perché ha tolto la lava? Ok. Bella quella spada in diamante. Facciamole vedere che te lì sotto c'è qualcosa? Dove sei? Oh, imbecille! Oh! Ah, è già giù. Ok. Allora iniziamo a muoverci verso il centro, sperando che non mi sciottino con l'arco. Ricorda tanto. O ti sciottano con l'arco, o si costruiscono i ponti alla velocità della luce. Fatto sta che in ogni caso le H ci sono... Un modo per vincolarti ce l'hanno sempre. Allora. Oddio. E là, quel punticello. Come la cosa nera, Ivan. Adesso regalo un po' di blocchi, va. Ok. Ah, ok. Tutta la roba forte è sopra. Di qua non c'è niente. Coppiamo giusto i... Le agniatere. Da qui sta. No, no, ma subito lì sopra. Non c'è. C'è rischio di prendere di brutta maniera. Ok. Mi hai salvato il culo, grazie. Adesso devo salire e prendere tutta la roba. Oh, figo. Ci sta... Il metto. Vediamo il metto. Opin. Gambari, opin. Tutta la roba p... Ce la pigliamo. Cazzo. Sono caduto. Le metto p... Ce l'ho già, ok. Oh, ci stanno sciottando. Oh. Maronna. No bro, non hai capito. Io salgo. Cioè, che cazzo è? No. E che c'è palle! No, raga, non sono più bravo come un tempo. Vabbè, dai. Faccio l'ultima. E vediamo se riesco a combinare qualcosa. Cioè, raga, se Sky Wars mi fanno incazzare e basta. Cioè, non l'ho mai giocato bene. Cioè, forse ne ho vinto... Ho vinto due in tutti i video che ho fatto sulle Sky Wars. E di video sulle Sky Wars ne ho fatti tanti. E' quello il problema. Cioè, quell'acqua da qui mi piace. Martis KO has changed the game. Ok. Ok. Miradoro. Gambali. Spade in ferro. Corazza. Assi. Costolette. Corazza in diamante. Perfetto. Abbiamo già qualcosa. È già qualcosa comunque quello che abbiamo. Cioè, non siamo messi malissimo. Questa significa una spada in diamante, invece una spada in ferro. Potrebbe essere l'utile tipo che vince. Ah. Ah, quello è l'hacker. Glow hacker. Che bontà. E quello non è un hacker? E questo non ha un hacker? Minchia raga. Cioè, c'è più hacker questo qua che non so cosa. Eh, che palle. È impossibile che ogni volta mi becco sempre lo stesso bastardo hacker. Vabbè, dai. Vediamo almeno quest'ultima. Dai, la faccio ancora. Ma c'è anche come scazza comunque questa cosa. Cioè, non si può giocare. Che c'è uno stupido hacker che... Che sta e ti frega tutto. Dai, non ci credo. Ok. Finiamoci subito la roba. E speriamo che non ci siano hacker in partita. Questo non mi incazzo è come una bestia. Perché poi è bello che non so neanche come riportarli. Perché se no li riporterei. Però non so come fare. Cioè, su questo server non c'è tipo l'opzione quella che c'è sugli altri server. Quella slash report o qualcosa del genere. Cioè, ci avevo provato un po' di tempo fa con uno che se ne intendeva. E mi ha detto che non c'è quest'opzione su questo server. Quindi io tipo qua non posso riportare gli hacker. Che è già una cosa sbagliatissima. Perché comunque se... Cioè, sappiamo che su Minecraft è pieno di hacker. Fate in modo almeno che questi qua vengano segnalati. Cioè, poi se siete uno staff intelligente. E uno staff che ci tiene. Cosa? Ma non ci credo. Ma lo sta uccidendo. Ma ho buttato giù.